attacca l'Inter con Milito, Milito contro Mexes arriva rapidissimo per rotta Milito strepitoso destro di Milito che vale il vantaggio ah li vedi l'Inter qui ha perso palla, si è fatta, ha perso palla la Roma, si è fatta trovare spiazzata ma la difesa stava recuperando, lui non ci ha persato su, ha tirato all'incrocio dei pali guardate, guardate dove l'ha messa, non c'è assolutamente lui da fare forza e precisione in questa conclusione di Milito che era andato in golla anche nel Roma-Inter di campionato gara persa grazie